Che il vaccino protegga è provato dalla situazione che si è creata nella casa albergo di Buccino dove una ventina di anziani ultra novantenni sono risultati tutti positivi ma con un quadro clinico buono. Per tutti l'attivazione del protocollo con la terapia monoclonale mentre il sindaco Nicola Parisi ha disposto la chiusura del centro per anziani al pubblico fino al prossimo 22 agosto. A commentare questo episodio che sicuramente fa specie perché tutti erano vaccinati è il responsabile covid dell'asla di Salerno e il dottor Arcangelo Saggese Tozzi che stamani facendo il punto della situazione nel corso di un'intervista ha ribadito nuovamente l'importanza della campagna vaccinale invitando tutti allo stesso tempo a rispettare e adottare comportamenti individuali rigorosi a rispettare le misure igienico-sanitarie relativi a distanziamento e uso corretto della mascherina fondamentale affinché il virus non si diffonda. Raggiunto a quota 67% dei vaccinati residenti si tende al 74% dei vaccinabili. Aumentano le adesioni per la campagna vaccinale e si guarda alla scuola con iniziative mirate agli adolescenti agli over 12. Sì c'è un aumento di adesioni abbiamo un'adesione di circa mille persone al giorno siamo arrivati a 712 mila. Questo significa che le persone continuano ad avere sensibilità e comprensione dell'importanza del vaccino. Noi continuiamo ad applicare la strategia dell'avvicinarci alla sede delle persone tanto che in questa settimana avremo altre tre sedute sulle zone del Cilento in accordo con la ASL Napoli 1. Che il vaccino protegga noi abbiamo una prova diretta e immediata dalla situazione che si è creata in una casa albergo all'interno della nostra provincia in cui 20 anziani ultranovantenni sono risultati tutti positivi convivendo in questa comunità ma per fortuna il quadro sintomatologico di compromissione da Covid è molto molto banale e basso e per ulteriormente ridurre questi rischi abbiamo fatto anche su questa popolazione eletta specifica un trattamento con i monoclonali. In questo modo dimostriamo che siamo in grado di tracciare la malattia quando si muove, di circoscriverla e se necessaria anche trattarla. Qual è il messaggio però che viene fuori da queste cose? Non bastano queste tre azioni, c'è bisogno di una quarta azione che deve essere fatta con forza. Dobbiamo continuare a rispettare le regole di distanziamento, dobbiamo continuare a tenere le mascherine, dobbiamo continuare a non fare assembramenti se non strettamente necessari e con le misure previste. La riduzione della circolazione del virus che ci dà il vaccino non ci dice che però il virus è scomparso, solo quando il virus sarà completamente scomparso potremmo ritornare alla vita come prima. Per adesso dobbiamo continuare a rispettare queste regole. Noi in aggiunta a tutto questo faremo un'altra azione mirata in questo periodo proprio orientata a quello che può avvenire nelle comunità. La prossima comunità che è la scuola deve aprire, per poter aprire abbiamo bisogno di vaccinare i ragazzi, di vaccinare i giovani dai 12 ai 18 anni. Faremo iniziative mirate in questo modo per proteggere loro, per proteggere quelli che non possono essere vaccinati al di sotto degli 11 anni e per provare a riprendere in modo normale, almeno in questi ambienti dove è indispensabile stare in modo collettivo, la vita di sempre. Ma in un primo momento c'è stata una certa resistenza. In questo momento non parliamo più di resistenza. È legato più alla fase vacanziera di questa fase. c'è minore presenza sul territorio. I ragazzi sono presi da questa atmosfera in quest'attimo, però la resistenza iniziale delle famiglie e delle mamme è venuta meno. La prova è anche questo aumento delle iscrizioni. Noi abbiamo vaccinato più del 50% dei ragazzi sotto dai 12 ai 18 anni e penso che dalla settimana successiva, dalla prossima settimana, faremo iniziative mirate, specifiche su questo per far sì che alla riapertura della scuola avremo raggiunto la maggior parte di questi ragazzi, almeno 75.000-76.000. I dati di questo mese di agosto fanno emergere che il virus circola maggiormente tra i giovani. Probabilmente il legame è proprio quello che lei diceva, non bisogna abbassare l'attenzione ed evitare gli assembramenti. Sì, questo è un dato che purtroppo ci continua ad essere confermato. La riduzione della circolazione è importante, però se noi non la aiutiamo tenendo le distanze, tenendo le misure di precauzione, tenendo le mascherine, lavandoci le mani, non creando grandi... il virus non è scomparso, per cui non possiamo pensare di tornare alla vita come prima, però possiamo ritagliarci una vita migliore di quello che abbiamo fatto in quest'anno e mezzo fino adesso. Allora dobbiamo però continuare a gestire questa situazione. Se ci sarà la collaborazione anche di tutti noi, a partire dai più giovani, probabilmente le varianti, le modifiche, tutto quello che sta intervenendo, le riusciremo a gestire meglio.